Francesca dopo i primi due set sembrava una partita indirizzata, poi dopo è cresciuta Scandici, voi magari siete calate, come l'hai vista tu la partita? A pensarci ora penso che più siano cresciute loro, è chiaro che forse un piccolo appagamento inconscio nostro c'è stato, però insomma i primi due set sono stati anche quasi da manuale ed era forse impensabile pensare di chiudere così, sarebbe troppo bello insomma. E' venuta fuori la vera Scandici che ci ha messo molto in difficoltà in battuta a muro, noi terzo set perso veramente un po' per qualche piccolo episodio, il quarto un po' meno e insomma tie break sappiamo come va insomma c'è un po' di fortuna, qualche palla recuperata in più, penso che ce lo meritavamo perché insomma è giusto che stiamo facendo un percorso lungo di alti e bassi, lo sappiamo è normalissimo ma meritavamo una cavolo di vittoria, scusate conceletemi il termine perché stiamo giocando in tanti fronti, anche sfortune perché insomma Neri era rientrata oggi, ancora non c'era, quindi lei è una giocatrice importante, quindi è brava anche a sopprire la sua assenza, quindi insomma dai, una vittoria meritata penso. C'è lì il rammarico di aver perso punto per strada o la classifica a questo punto non la si guarda neanche più? Si guarda e non si guarda, quest'anno è un campionato bellissimo che insomma puoi vincere e perdere con tutte, quindi penso che prima di oggi mettere una firma sul 3-2 con Scandici l'avremo fatto in tanti, chiaro che 3-0-3-1 sarebbe stato ancora meglio ma va benissimo così, due punti d'oro, visto anche gli altri risultati di ieri, non so quelli di oggi, quindi insomma andiamo avanti così e sappiamo che c'è ancora tanto da fare. Una partita che dà convinzione in più? Ma da un po' di convinzione nel senso che non dipendiamo da delle giocatrici, c'è chi diceva che senza quella non si poteva vincere, non è vero, giochiamo di squadra, è chiaro che abbiamo delle individualità molto forti che a volte sono venute fuori, come è successo a loro con Loda in battuta o insomma altre giocatrici in altre squadre, quindi quando si gioca di squadra ci si diverte di più innanzitutto e si arriva a fare delle cose grandi. Adesso Bergamo? Adesso Bergamo che purtroppo non avrà Scovronska, che insomma si è fatto un brutto infortunio ma questo non deve essere assolutamente un elemento per farci rilassare perché sappiamo benissimo Bergamo che squadra è, come gioca in casa e adesso godiamoci un attimo il giorno di riposo e poi penseremo a Bergamo perché insomma giocare al Buonanord è sempre molto impegnativo e bello. Grazie Grazie Grazie